come pensare a chi? un video uno a uno no, no, è un gruppo no, non è una foto è un video ah, è un video hai un ciste non sei che no, non ciste ah, non ciste beh, beh, beh hai la vergogna, però si hai un cittadino hai un cittadino ah, non c'è qui stanno parlando sonriai la camera video video ah, che è un video un video ah, non c'è un video ah, non c'è un video no, da, da è un video ah... ah, va, hai un cittadino ah, non c'è un canale oh, non c'è un video un clogo del virus Oh che non lo fanno già, ma o meno. Sì, sì, sì. Che mi dà un'aiuto. Permesso, permesso. ...verdò? Video, video, video! Io sto gravando il video. Un video? Sì, perdò. No, è un video È un video Buono o malo Buono o malo lo entiende Por eso, Silvio Wood